Ciao Mirko, Francesco Cambuca Sportisi, li partiamo un po' da quelle che sono le tue impressioni dopo quasi due settimane ormai da Veronello fino ad oggi del ritiro, la squadra come lavora, anche Mr Corini l'abbiamo visto molto carico, poi proseguo con le altre. Sì, siamo qua da quasi due settimane, abbiamo iniziato da quasi due settimane, stiamo lavorando bene, sono arrivati dei nuovi compagni che si sono subito integrati, quindi procede tutto bene. Partiamo dai vecchi compagni, quelli che hanno lasciato in particolare Samuele Massolo, l'abbiamo visto particolarmente provato e commosso al suo addio, come vi siete salutati? Beh, ci tengo a precisare che se non mi avessi fatto tu questa domanda mi sarebbe piaciuto ringraziarlo personalmente e pubblicamente, perché penso sia stato un ragazzo eccezionale durante tutto l'anno, nell'anno passato è stato uno dei ragazzi che ha permesso al Palermo di approdare in Serie B, quindi volevo ringraziarlo pubblicamente per tutto quanto, perché oltre ad essere un collega, un compagno di squadra è stato un mio grande amico. E invece al suo posto è arrivato Sebastiano De Planche, stamattina si è allenato per la prima volta in campo, io ti ho visto particolarmente protettivo e carico di consigli per Nespola, quale sarà ovviamente il tuo punto di vista, il tuo atteggiamento nei confronti di questo ragazzo appena arrivato? Beh, sinceramente io avrò lo stesso atteggiamento che ho avuto in tutti gli anni in cui ho giocato, mi metto a disposizione di tutti i compagni della squadra e quindi assolutamente non ci sarà una qualche differenza, assolutamente. Ultima cosa, domani sarà come se fosse una prima vera amichevole dopo il test di sabato, avete anche studiato qualcosa, come ci si approccia ad una partita contro una squadra che comunque fa calcio professionistico in quanto in Serie C? Beh, sicuramente in questo periodo ci sono molte cose da provare, molte cose su cui stiamo lavorando con il mister giornalmente, si approccia a una partita, un'amichevole che comunque è un allenamento ma comincia già a essere di livello, quindi come tutte le partite la concentrazione è giusta e cercare di mettere in campo quello che il mister ci sta dicendo in queste settimane. Ciao Roberto Parisi, Stadionews. In estate rinnovate il contratto col Palmo fino al 2025, ti volevo chiedere se c'è stato qualche interessamento di altri club che ti ha fatto vacillare oppure era questa la tua scelta definitiva? L'interessamento di qualche club c'è stato, che mi ha fatto vacillare? No, assolutamente no. Ok, tu che sei uno dei giocatori più esperti alla Rosa e c'eri anche l'anno scorso, come stai vedendo Corini e la squadra in generale, che tipo di ambizione può avere? Si punta alla Serie A come è stato annunciato? Secondo me il Palermo, già come piazza, come città, merita la Serie A. Ovvio è che sta a noi, dare il massimo, abbiamo tutte le condizioni per dare e fare il massimo e per lottare assolutamente per andare in Serie A. Volevo tornare un attimo su De Planchi, lo conoscevi? Che tipo di portiere ci puoi raccontare un po' le caratteristiche? Guarda, ho visto le partite con la Nazionale, ho visto qualche partita l'anno scorso della Serie C, diciamo non è il mio ruolo vedere caratteristiche, ho visto quel ragazzo sicuramente che ha grandi prospettive, è arrivato in un grandissimo club e quindi penso che sia un bene per tutti. Una domanda anche su Nespola, che è la sua prima vera esperienza tra i grandi, come lo stai vedendo, insomma si sta integrando bene, può avere un futuro nel calcio professionistico? Grazie. Assolutamente, è un ragazzo giovanissimo, che secondo me anche lui farà parlare di sé, qui con noi quest'anno in ritiro, vediamo insomma come affronterà tutta la stagione, però sicuramente è un ragazzo promettente. Nicolò Ciluffo Mediagol, ciao Mirko, dopo il tuo rinnovo hai dichiarato i microfoni ufficiali del club, ho l'obiettivo di togliermi grandi soddisfazioni, conquistare la Serie A con questa maglia sarebbe la ciliegina sulla torta per la tua carriera? Sì, sì assolutamente, come ho detto l'anno scorso io sono innamorato folle di Palermo, del Palermo, dei palermitani, quindi conquistare la Serie A con questa maglia sarebbe molto più che la ciliegina sulla torta. Quanto siete carichi per la partita d'esordio contro il Bari, nonostante comunque si possa anche prevedere uno slittamento del campionato? Beh, abbiamo letto qualcosa sullo slittamento, staremo a vedere, cominciare subito con una grande partita secondo me sarà bellissimo e sarà ancora più entusiasmante. Per chiudere intanto, quanto è importante per un portiere come te avere in difesa due difensori esperti come Luciano Iceccaroni? Beh, sicuramente sono due difensori di grande esperienza come lo sono anche Nede e Ivan, quindi posso dire che quest'anno tutti i ragazzi che fanno parte di questa rosa avranno le loro chance sicuramente, avranno il loro momento per dimostrare le loro abilità. Buon pomeriggio Mirko, Manfredi Maria Tutto il Mondo, ForzaPalermo.it Sei arrivato qui l'anno scorso, alcuni avevano perfino delle perplessità su di te e tu immediatamente le hai smentite. Com'è essere adesso diventato un beniamino della piazza, di una piazza importante come Palermo? Beh, io ripeto che dal primo giorno in cui sono arrivato mi sono messo a disposizione di tutti, della squadra, della società. Sono una persona a cui piace lavorare, ripeto, mettersi a disposizione, quindi sono super felice di essere qui. Per quanto riguarda essere un beniamino, come hai detto tu, non è quello che cerco. Do solo il massimo in campo e poi il resto viene da sé. Ti volevo chiedere altre due cosette. La prima, spero che non te la prenda, ecco, in quale aspetto vuoi ancora lavorare per migliorare tanto? Dove ancora non ti senti, ecco, prettamente a tuo agio? Beh, non me la prendo assolutamente perché penso che fino all'ultimo giorno in cui giocherò a calcio ci sarà da migliorare. Quindi penso su tutti gli aspetti. Ad oggi penso di avere ancora almeno altri 9-10 anni di carriera, quindi da migliorare ce ne sarà ancora molto. E per ultimo, ti senti un leader di questa squadra e soprattutto come gestisci tu, che sei ormai un portiere d'esperienza, il rapporto con la difesa? Come riesci a farti sentire con i tuoi difensori? Mi sento un ragazzo che fa parte della squadra, che dà il meglio in campo e fuori dal campo. Non mi alzo, non mi elevo al leader perché assolutamente neanche come parola neanche mi fa impazzire. Quindi, ripeto, sono un ragazzo che fa parte di un gruppo e si sta cementando già da subito un grande gruppo. Eccomi, quanto credi, Mirko, che possa essere un punto di forza per questa squadra avere un portiere come te, bravo nell'impostazione dal basso, bravo nei lanci, nella precisione con qualità? Penso che nel calcio moderno, che ormai, alla fine è così da almeno 7-8 anni, sia un valore aggiunto per la squadra. Fermo restando che il portiere è in porta perché deve parare, poi si mette al lavoro e fa quello che il mister gli chiede. Per chiudere, da portiere, avendo una prospettiva alle spalle di tutti, insomma, che impressionanti hanno fatto anche i nuovi arrivati da un punto di vista offensivo, mi riferisco a Insigne e Mancuso e Vasic. Grazie. Sicuramente Insigne e Mancuso sono due giocatori di grande esperienza, con cui ho avuto modo di giocarci contro parecchie volte. Con Leo, invece, ci ho giocato insieme a Pescara. Per quanto riguarda Vasic, si è presentato al meglio, sta facendo, secondo me, già dei primi giorni delle grandi cose e, ripeto, spero che saranno tutti un valore aggiunto per l'obiettivo finale. Volevo chiederti soltanto una cosa, ma visto come hai calciato oggi in allenamento, farei un giorno all'attaccante? Ma magari dopo i 40 anni, sì, dai, con gli amici, sì. Mi diverto, nel senso, nel momento in cui l'allenamento sta per finire o c'è la possibilità a calciare un po' in porta, però sì, dai, perché no? Mirko, ultima cosa ti volevo chiedere. Si è parlato dei nuovi acquisti, soprattutto dal punto di vista dell'apporto sul campo. Quanto invece è importante avere nuovi giocatori arrivati quest'estate che sanno già come si vince in Serie B, Mancuso ha vinto, Ceccaroni, lo stesso Lucioni e lo stesso Insigne, che apporto stanno dando in ottica a Spogliatoio anche a livello di mentalità a questa squadra? Sì, assolutamente, come si dice, vincere aiuta a vincere, quindi questi ragazzi l'hanno fatto chi lo scorso anno, chi qualche anno fa, però nello Spogliatoio ci sono anche altri ragazzi che già hanno vinto, anche la Serie B. Penso che sia un valore aggiunto, sono dei ragazzi che sono arrivati e si sono messi a disposizione del gruppo e sicuramente noi un po' più grandi daremo una mano ai più giovani ad integrarsi al meglio e il prima possibile. Grazie. Grazie per la visione!